sappiamo tutti che andare a fare mining soprattutto su bitcoin è un qualcosa che richiede prima di tutto delle competenze ma in particolar modo soprattutto in italia anche un grande budget per andare acquistare le macchine per mantenere le macchine in funzione e logicamente anche per andare a fare dell'assistenza ma in questo caso ci viene incontro un nuovo progetto del quale vi andrò a parlare oggi ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale io sono davide e oggi voglio parlarvi di btc st ossia un nuovo progetto che vi dà la possibilità di poter fare del mining tranquillamente da casa andando a mettere in staking dei token dei quali vi andrò a parlare proprio oggi ma come al solito vi chiedo di lasciare un like a me serve tantissimo per crescere su questa piattaforma di commentare qui sotto qualsiasi domanda dubbio o curiosità e di andarvi a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare inoltre tutto ciò che dovrà dire non sono consigli finanziari ma sono mie opinioni personali basate su esperienza e studi fatti nel tempo btc st ossia bitcoin stardom e sheet token non è nient'altro che un nuovo token che è stato creato sulla block chain per quanto riguarda di binance quindi la smart chain che va a replicare un quantitativo predefinito creando dei token quindi tokenizzando questo potere di calcolo e andando a dare la possibilità a tutti coloro che posseggono della cripto valuta btc st di poter utilizzare e quindi ottenere anche delle revenue proprio dall'utilizzo di questa nuova cripto valuta basata su un progetto molto interessante la cosa fondamentale è il fatto che andando a detenere una quantitativo di cripto valuta è possibile metterla in staking e oggi vi farò vedere anche come ma grazie proprio al fatto di metterla in staking riusciremmo ad ottenere addirittura una revenue da mining superiore nettamente superiore a quella che invece si potrebbe ottenere andando a minare con lo stesso quantitativo pari di potenza di calcolo sapete benissimo che binance dà una possibilità di poter andare a ottenere della cripto valuta andando a mettere in staking normalmente le cripto lute che loro vanno a utilizzare come utili token quindi per esempio binance coin oppure di usd e in alcuni casi anche come questo bitcoin e cripto lute che danno la possibilità ad alcuni progetti come per esempio per rif polka dot di poter funzionare in questo caso sto parlando come vi ho già detto di ptc st e l'ho scoperto proprio andando a cercare una nuova cripto luta sulla quale andare a fare il mio staking di bnb quindi sono andata sul launchpool e ho trovato questo btc st che è un progetto molto interessante che in questo momento sta dando l'uno punto 35 per cento annuo per quanto riguarda lo staking di binance in questa maniera vi dà la possibilità di poter ottenere un quantitativo di cripto valuta btc st che è paragonabile a un determinato quantitativo di hash power che è stato messo a disposizione proprio dal progetto in questo momento su coin market cap il valore per singolo token di btc st è di 59 e 29 è una cosa molto interessante da tenere presente è il fatto che questa cripto valuta oltre al fatto di girare comunque sulla smart chain di binance è una cripto valuta che bene o male è abbastanza legata anche al valore di bitcoin proprio perché essendo un token del potere di calcolo che viene utilizzato per andare a minare proprio bitcoin in questa maniera ognuno di noi nel momento in cui dovesse andare a fare staking andrebbe ad ottenere una revenue di bitcoin e dato che il bitcoin aumenta e diminuisce di valore anche il potere a livello di quantitativo di dollari andrebbe ad aumentare e diminuire in base logicamente al valore di bitcoin e quindi in questa maniera il valore della cripto valuta singola di token singolo andrebbe a correlarsi in qualche maniera proprio al bitcoin originale la cripto valuta è stata emessa il 12 gennaio del 2021 e partendo da un valore di 75 dollari e 73 centesimi ad oggi vale 59 dollari e 33 centesimi se volete andarvi a dare un'occhiata su dove può essere minata su il suo funzionamento e altre informazioni per tranquillamente venire su coin market cap io ho fatto un giro un po più complicato ossia sono andato a vedere su reddit questo è praticamente uno dei social migliori per quanto riguarda informazioni di tecnologia e sono andato a guardare alcune informazioni basate su btcst di medium.com mi ha portato su questa pagina sono andato a tradurla e praticamente ho scoperto che in questo momento come total supply ci sono 10 milioni di token di btcst che sono paragonabili a un milione di tera hash per quanto riguarda il calcolo computazionale del bitcoin tera hash al secondo in questa maniera quindi un btcst è pari a 0.1 tera hash che dà la possibilità di poter ottenere una revenue che è totalmente automatica e quindi è basata sui parametri di mining del bitcoin la cosa interessante è il fatto che nel momento in cui non dovessero essere messe in staking il minimo del 60 per cento della criptovaluta in circolazione comunque la pool di mining andrebbe a versare il 60 per cento delle criptovalute che vengono comunque minate dalla dalle dalle macchine e verrebbero questo 60 per cento suddiviso tra tutti coloro che hanno investito e quindi hanno messo in staking le criptovalute sulla di app perché è un'applicazione decentralizzata quindi se dovesse essere messo in staking soltanto il 20 per cento come esempio che c'è scritto qui sopra andrebbero ad ottenere tutti coloro che hanno messo in staking la criptovaluta il tre volte il quantitativo di criptovaluta che teoricamente ognuno riuscirebbe ad ottenere giornalmente infatti le revenue sono giornaliere e il 40 per cento rimanente verrebbe comunque conservato e mantenuto all'interno della mining pool per andare a mediare il market making in questa maniera dopodiché se invece dovesse essere messo in staking più del 60 per cento allora tutta la criptovaluta che verrebbe corrisposta in base al quantitativo di token messi in staking verrebbe suddivisa in parti eque proprio tra tutti coloro che stanno facendo il lavoro di staking ma è tutto il restante continuerebbe ad andare nel fondo per quanto riguarda il market making a calcoli in mano praticamente il potere di calcolo per singolo token andrebbe a dare un ritorno per tutti coloro che in staking la criptovaluta addirittura di 14 volte superiore al mining diretto di bitcoin il periodo di staking parte dalle 8 del pomeriggio di singapore fino alle 8 del giorno successivo sempre orario di singapore e la cosa interessante è che se qualcuno dovesse andare a mettere in staking delle criptovalute e dovesse ritirarle prima della fine di questo periodo allora andrebbe ad ottenere zero o magari andrebbe ottenere pari quantitativo rispetto a quello che è stato lasciato quindi se qualcuno mette 10.000 e va a ritirare 5.000 quella quantitativo che riuscirebbe ad ottenere dallo staking di criptovaluta del token andrebbe a essere basato sui 5.000 rimanenti sulla piattaforma mentre i 5.000 ritirati anche se solamente un secondo prima del calcolo della chiusura del giorno del day one comunque andrebbero a essere totalmente persi esiste anche l'account twitter di btc st dove ci sono diverse informazioni è anche presente il white paper se volete leggervelo in questa maniera andrete ad ottenere tutte le informazioni necessarie per riuscire a capire e comprendere come funziona il meccanismo di staking delle criptovalute ma abbiamo anche la possibilità di andare a fare un calcolo preventivo per andare a capire quanta criptovaluta riusciremmo ad ottenere andando a investire un determinato quantitativo per riuscire a connettersi alla di app c'è la possibilità di utilizzare il wallet di binance chain o il meta mesco oppure andare a utilizzare un wallet web io vado utilizzare meta mesc logicamente per farlo funzionare deve essere impostato sulla baina smart chain altrimenti non verrebbe riconosciuto e in questo caso io ho la possibilità di poter vedere quant'è il quantitativo di criptovalute ha minato fino ad oggi in questo momento sono 5 bitcoin e 38 e 99 qual è il quantitativo di staking all'interno del sistema in questo momento sono 79.79077 bitcoin quindi btc st e in questo momento il potere equivalente di questi token è pari a 7907 terash e spiccioli la cosa interessante che vi stavo infatti dicendo prima è il fatto di poter andare a fare una specie di calcolo per andare a capire quant'è il potenziale di staking e quindi il guadagno in ritorno rispetto a quello che noi andiamo a mettere in staking basta andare su stats andare a mettere il quantitativo ipotetico che vogliamo mettere all'interno della piattaforma per esempio mettiamo 10 btc st che equivalgono momentaneamente a circa 570 dollari e vedremmo subito uscire il quantitativo in bitcoin guadagnato giornalmente e in dollari logicamente quello in dollari varia in base al valore del bitcoin quello invece del bitcoin è praticamente stabile una cosa importante da tenere presente il fatto che esiste un estimate boost factor ossia che c'è un fattore che va a spingere e quindi a invogliare maggiormente tutti coloro che vogliono investire all'interno di questo progetto all'inizio quando verrà avviato molto probabilmente questo boost factor verrà levato ma comunque stiamo parlando sempre di una possibilità di guadagnare addirittura 14 volte quindi andando a levare il 7.58 per andremo comunque ad ottenere un quantitativo che rispetto a quello che possiamo ottenere in base alle revenue ottenibili dal mining fisico diretto è sicuramente superiore se dovesse andare a fare un calcolo per capire la percentuale annua del guadagno che può essere effettuato tramite questo sistema andrei a fare semplicemente questo calcolo ossia andrei a vedere prima di tutto il valore per singolo token stiamo parlando di 59 dollari e 40 centesimi quindi mettendo per esempio 10 token per 59 punto 40 avremo 590 dollari dopodiché 590 dollari dobbiamo tenerlo presente e andiamo a fare 0.95 che è il quantitativo in dollari momentaneamente che possiamo ottenere per 365 giorni avremo 346 dollari poi andiamo a fare il diviso 594 dollari che è il quantitativo che abbiamo calcolato del valore che abbiamo messo in staking e andando a vedere poi questo valore dobbiamo sempre moltiplicarlo per cento per andare a vedere il valore in percentuale e quindi avremo un 58 per cento annuo circa di rendimento grazie proprio al mining e quindi allo staking di questi 10 btc st inoltre andando a dividere per 7.58 che è momentaneamente il boost ci darebbe un ritorno circa del 7 barra 8 per cento annuo andare a investire senza boost che probabilmente durerà ancora per poco tempo all'interno di questo nuovo progetto ed ecco quindi le conclusioni allora dal mio punto di vista btc st è un progetto molto interessante basato su uno smart contract e quindi sulla decentralizzazione quindi nessuno può avere e spegnere il insomma il sistema perché non c'è un tasto on off la questione importante è il fatto che in questo momento il quantitativo di cripto luta è bustato quindi è potenziato e pompato proprio dal sistema proprio perché ci cerca di andare a spingere e quindi dare l'opportunità di far partire questo progetto ma la cosa molto più bella e più importante è il fatto che nel momento in cui dovesse andare a finire questo boost dal mio punto di vista molte persone andranno a perdere interesse e andando a perdere interesse sicuramente questa cripto luta diverrebbe una cripto luta da speculazione e quindi non verrebbe più messa in staking all'interno della di app in questa maniera cosa succederebbe beh sicuramente il 60 per cento potrebbe anche non essere coperto e quindi si riuscirebbe ad ottenere sicuramente un quantitativo comunque maggiore di cripto valuta anche andando a paragonare l'investimento che una persona fa in mining con l'investimento che viene effettuato su btc st questa cosa quindi è una nuova possibilità di andare a ottenere una rendita passiva basata su un qualcosa di concreto quindi un potere di calcolo esistente ma bisogna sempre essere consapevoli del fatto che questo progetto è un progetto che è basato su una possibile azienda e quindi una possibile organizzazione che non avendo uno storico troppo importante sapete benissimo come potrebbe chiudere da un momento all'altro e quindi magari andare a perdere la possibilità di ottenere delle revenue per quanto mi riguarda io sto già facendo lo staking per quanto riguarda il btc st all'interno di binance avete visto benissimo io ho messo 1.4 binance per fare staking nel momento in cui riuscirò ad ottenere un quantitativo di cripto valuta andrò a utilizzare quella cripto valuta proprio per andare a fare lo staking di btc st e tutto il bitcoin che andrò ad ottenere lo andrò a vendere per acquistare altra cripto valuta per andare a fare altro staking in questa maniera andrò a creare un effetto compound che mi darà la possibilità di poter ottenere più token possibili per quanto riguarda btc st e quindi andarmi a creare un'ennesima rendita grazie proprio a un investimento basato ed effettuato logicamente grazie a un nuovo progetto che dal mio punto di vista potrebbe prendere le ali da qui a qualche anno e voi cosa ne pensate investireste mai su un progetto del genere quanto vi può interessare avere delle cripto lute che vi rendono un ritorno automatico basato su un qualcosa di effettivamente reale e in bitcoin e soprattutto quanto preferireste investire all'interno di un progetto del genere io vi ringrazio aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace commentare qui sotto iscrivervi al canale andare a visitare la mia pagina instagram davidevasco 85 io vi ringrazio aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti